covid nelle marche terapie intensive a livello di zona gialla fra pd e ambiente ricci e ceriscioli insieme alla festa dell'unità carcere di villa fastigi gli agenti dichiarano stato d'agitazione sport marotta celebra l'italvole di mazzanti e bertini la vis si morde le mani una buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sulle canale 633 del digitale terrestre vi ritrovati a rossini news il nostro telegiornale che in questa edizione di lunedì 6 settembre apriamo facendo il punto sulla situazione sanitaria nella regione marche che da oggi sconfina nel primo parametro di rischio verso la zona gialla a comunicarlo attraverso un post su facebook è stato oggi il presidente di regione francesco acquaroli ricordando come attualmente l'occupazione dei ricoveri in terapia intensiva è del 10,3% quando la soglia di ingresso dalla zona bianca a gialla risulta del 10% per quanto riguarda i ricoverati in area medica la soglia del 15% e oggi le marche si salvano con una percentuale che si attesta invece poco sopra il 6% questo è il primo dato confortante oltre a quello che evince come dal 30 agosto al 5 settembre si sia registrata una riduzione dell'incidenza dei nuovi casi positivi settimanale con 1.023 nuovi positivi e un tasso di 68 casi ogni 100.000 abitanti basti ricordare che la settimana precedente erano stati registrati 1.300 nuovi positivi con un tasso di 86 casi ogni 100.000 abitanti altro dato confortante quello che dice come nelle marche si sia ora raggiunto il 78% di cittadini che hanno ricevuto la prima dose di vaccino oggi 6 settembre sono invece 49 i nuovi casi di contagio da covid quasi un terzo rispetto a quelli registrati nelle 24 ore precedente ma come ogni lunedì sono sensibilmente diminuiti anche i tamponi effettuati ed ora una terribile notizia di cronaca che arriva da macerata dove oggi in una villetta in località borgo santa croce sono stati trovati tre corpi senza vita e in avanzato stato di decomposizione in quanto sembrerebbero morti da diversi mesi si tratta di tre cadaveri appartenenti allo stesso nucleo familiare ero scanullo di 81 anni la moglie angela maria moretti di 75 anni e il figlio alessandro di 54 anni che era invalido in seguito a un incidente stradale nessuno li aveva cercati per mesi poi a lanciare l'allarme è stato un parente della famiglia canullo che abita a milano l'uomo infatti aveva cercato di contattarli ripetutamente via telefono negli ultimi giorni ma senza successo sono stati così allertati vigili del fuoco che hanno sfondato la porta dell'abitazione trovando i tre corpi senza vita in tre stanze diverse della casa dal primo esame non si sono registrati segni di violenza e sono in via di accertamento le cause di questo drammatico triplo decesso e ora la politica rilancio del partito democratico e politica ambientale suffragata da investimenti infrastrutturali sono stati questi i temi centrali della giornata di ieri della festa dell'unità di villa fastigi che avete potuto seguire anche in diretta su rossini tv temi che sono stati sviluppati dal sindaco di pesero matteo ricci e dall'ex presidente della regione marche luca ceriscioli il servizio matteo ricci e luca ceriscioli di nuovo insieme sullo stesso palco e chissà forse di nuovo insieme nel partito democratico che verrà nulla di concreto certo ma dalle poltrone della festa dell'unità di villa fastigi l'ex presidente della regione marche rilancia il senso del noi alla base di una ripartenza collettiva del partito democratico così come il sindaco di pesero include ceriscioli nel piano di rimonta dei dem nelle marche dopo la sconfitta alle ultime elezioni regionali il tema del noi che è il secondo punto il primo è recuperare qualità nella proposta politica secondo recuperare un senso di collettivo il bicione a incarnava l'individualismo sfrenato l'idea che ognuno risolvendo i propri problemi risolve i problemi di tutti abbiamo capito che le cose non funzionano così vanno in un'altra maniera allora la anche recuperare un senso di un impegno collettivo più ampio in una prospettiva che capiamo benissimo in realtà in termini economici è di grande stimolo è una risorsa di cambiamento importante e secondo me un altro punto molto interessante di questo di questo processo perché sono cose che puoi cambiare solo insieme noi abbiamo sempre fatto le cose insieme anche l'ultima partita che è stata la più complicata alla fine poi l'abbiamo gestita insieme non è che l'abbiamo gestita in maniera diversa abbiamo cercato tutti fino alla fine di provare a recuperare a dare una mano mangialardi alla vittoria purtroppo non ce l'abbiamo fatta penso che dentro come dire sono tanti motivi anche di cambiamento socio politico dei marchigiani adesso di certo dobbiamo ripartire insieme anche perché non è che c'è adesso c'è da ricostruire c'è da ricostruire e luca non ha mai messo se stesso prima delle ambizioni della squadra del collettivo del partito sicuramente quello farà anche in questa circostanza non è mai stato uno che ha cercato posti piuttosto che altro si è sempre messo a disposizione secondo me ha delle competenze amministrative politiche importanti e credo che sia compito mio di altri cercare di valorizzare tenendolo tenendo le squadre in qualche modo nelle condizioni che che ci saranno che decideremo insieme manovre interne della politica dem emerse da una festa di villa fastigi che ha messo la tematica ambientale al centro del dibattito il dottor gianfranco mascia ha presentato il suo libro dal titolo come osate la parola ai fridays for future italia un tema sul quale ricci incalzato dal giornalista raffaele vitali ha sottolineato la necessità di un ambientalismo del fare riferendosi a due casi pesaresi in particolare biodigestore e un nuovo invaso per l'approvvigionamento idrico credo che dobbiamo avere anche la forza di fare scelte coraggiose e di avere una visione dell'ambiente uso questo termine diciamo riformista chiamiamola così di cambiamento faccio due esempi del nostro territorio che sono di grande attualità uno l'energia noi sono alcuni anni che stiamo discutendo di fare un impianto biodigestore non è che si può dire sempre di no perché un impianto di biodigestore sostanzialmente che cosa fa non brucia ma trasforma l'organico in biogas e che può essere che serve sia come gas sia per la produzione di energia elettrica e il resto viene usato come concime e quindi come per l'agricoltura se in questo territorio non si fa una scelta del genere noi continuiamo a riempireci la bocca con la parola economia circolare e non facciamo un impianto fondamentale per l'economia circolare quindi in questo momento bisogna stare vicini a quegli amministratori che hanno deciso di fare una scelta del genere non a caso noi come pesaro abbiamo detto siccome lo riteniamo un impianto fondamentale se anche a valle foglia non si dovesse andare avanti noi un'area pesaro ce l'abbiamo già individuato votato in consiglio comunale questo è ambientalismo del fare l'acqua noi quest'anno abbiamo rischiato grosso ed è 15 anni che rischiamo grosso perché pesaro tutta la provincia di pesaro urbino è approvvigionata da acqua di superficie per l'80 per cento si è fatta una scelta qualche anno fa di provare a cercare acqua in profondità il grande pozzo del burano si è deciso di tenerlo solo per l'emergenza io su questo ho grandi dubbi perché secondo me quell'acqua poteva essere tranquillamente utilizzata per servire le aree interne della nostra provincia si è scelto di fare qualche altro posto per cercare acqua di profondità si è trovata ma non in quantità sufficiente per in qualche modo rafforzare la strategia dell'acqua la strategia del fabbisogno d'acqua nel nostro territorio adesso si sta discutendo di fare un invaso qualcosa bisogna fare perché se no viene a mancare l'acqua nei rubinetti l'ambientalismo che ho inteso è un ambientalismo del fare non è un ambientalismo del lasciare tutto così com'è perché purtroppo a causa anche del cambiamento climatico noi abbiamo un'emergenza idrica in questo territorio ormai decennale la settimana scorsa al carcere di Villa Fastigi si è registrato l'ennesimo episodio di aggressione ai danni di agenti di polizia penitenziaria da parte di detenuti una situazione non più sostenibile secondo le associazioni sindacali di categoria che oggi hanno effettuato un presidio davanti alla casa circondariale di pesaro dichiarando l'inizio dello stato di agitazione oggi le otto sigle sindacali rappresentative di categoria sono qui congiuntamente a manifestare il proprio dissenso a rappresentare il personale che quotidianamente presta servizio presso l'istituto della casa circondariale di Villa Fastigi e quotidianamente subisce aggressioni fisiche e verbali e ci chiedono con gran forza di dire basta oggi 6 settembre parte ufficialmente lo stato di agitazione del personale dell'istituto di Villa Fastigi come avevamo già precedentemente comunicato sia agli uffici superiori dell'amministrazione che agli enti territoriali interessati a tal riguardo siamo anche in attesa della data di convocazione da parte del signor prefetto di pesaro che ha manifestato solidarietà e ha preso in gran considerazione le nostre doglianze ci avvaleremo delle forme di protesta consentite dalla legge oggi 6 settembre parte l'istituto della dell'autoconsegna che ha due scopi il primo scopo innanzitutto è quello di tutelare anzi autotutelare il personale che è in servizio presso l'istituto di pesaro Villa Fastigi il personale si tratterà oltre il turno programmato di servizio fino alle ore 18 restando qui nei pressi della caserma o nell'esterno dell'istituto dove abbiamo appunto istituito un presidio esterno il personale è qui a disposizione eventualmente della sorveglianza generale qualora si dovessero verificare situazioni che richiedono appunto un intervento urgente il personale utilizza questa forma di protesta che ricordiamo è la più forte forma di protesta che la legge ci mette a disposizione abbiamo il supporto delle nostre famiglie che preferiscono non vederci tornare a casa al turno programmato per però poter ottenere poi per il futuro lavorativo più sicurezza per l'incolumità fisica del personale il quale sempre più spesso esce di casa per venire a svolgere il proprio turno lavorativo e prima del rientro si deve ricorrere ecco alle cure del non so come cittadino il 20 settembre indiremo una manifestazione di protesta coinvolgendo gli enti politici e gli enti territoriali che vorranno venire qui esprimere la propria solidarietà e a cui chiederemo sicuramente di intercedere presso i nostri uffici superiori dell'amministrazione penitenziaria per far sì che questa manifestazione porti ad ottenere le nostre due uniche richieste ovvero l'avvicendamento della direzione dell'istituto di pesaro e il rientro del comandante di reparto titolare o la nuova assegnazione di un comandante di reparto titolare ricordiamo che nel giro di circa cinque anni sono stati avvicendati ben cinque comandanti e se oggi siamo qui e stiamo ponendo in essere tutto ciò la riteniamo una sconfitta una sconfitta per tutti la sconfitta del dialogo la sconfitta della diplomazia un anno e mezzo fa eravamo qui abbiamo manifestato ci erano state fatte delle promesse promesse disattese non se oggi siamo qui non è stata un estrema razzo ci siamo arrivati con anni e anni di denunce di richieste presso gli uffici superiori non sono state sono state disattese quindi siamo costretti a dar voce a quel personale che quotidianamente lavora in condizioni non dignitose in condizioni di insicurezza daniele malandrino capogruppo in consiglio comunale per fratelli d'italia denuncia lo stato di abbandono in cui versa il cimitero di novilara fra muri scrostati cornicioni crollati e addirittura bare lasciate a cielo aperto una situazione denunciata da anni dai cittadini malandrino si augura che il comune deputato alla straordinaria manutenzione e aspers responsabile dell'ordinaria manutenzione pongano rimedio a questo indegno stato di degrado è stato presentato oggi il progetto per il recupero del sentiero delle passioni e di piazza dante alighieri a fiorenzuola di focara un progetto di 114 mila euro complessivi che riguarderà la sistemazione dell'arredo urbano di fiorenzuola e delle passeggiate sulle mura gravemente danneggiate dall'incendio delle 2017 le final la finalità del progetto è duplice restituire alla comunità e riqualificare spazi e camminamenti di immenso valore storico e paesaggistico nonché rafforzare la tenuta del borgo dai pericoli che provengono dagli smottamenti della falesia 12 comuni marchigiani sono oggi più vicini all'europa nel segno della transizione energetica nella lotta al cambiamento climatico sono questi gli obiettivi del patto dei sindaci ai quali aderisce ora l'unione l'unione montana del catria e nerone come capofila della snai la cosiddetta strategia dell'area interna che garantisce un sostegno tecnico alle amministrazioni aderenti di pergola acqualagna a pecchio arcevia cagli cantiano frontone piobbico sasso ferrato serra santabondio fratte rosa e san lorenzo in campo cambiamo argomento una band musicale pesarese è stata selezionata per partecipare alla finale del sanremo rock and trend festival che si trà appunto a sanremo da oggi fino all'11 settembre al festival che è un trampolino di lancio per nuovi gruppi emergenti parteciperà infatti anche la band pop rock pesarese radice cubica composta da tre giovani musicisti classe 94 ovvero giacomo scodavolpe mirco cardella e luca giavon sono monica bianchetti di trevisto con il cielo sopra l'albero e nadia guidetti di fabriano con alla terra le vincitrici della selezione delle sezioni narrativa e poesia del premio letterario internazionale la donna si racconta giunto alla ventunesima edizione la cui cerimonia si è svolta sabato nelle cortile dei musei civici di pesaro al secondo e terzo posto della sezione narrativa si classificate la vigna brilli di torino con io non sono un gambler e silvana donatini di lugo con dolce a noi mentre al secondo e terzo posto della sezione poesia si sono classificate vanessa dod di roma con rinascere oltre e roberta del prete di pesaro con e io sono qui come evidenziato dalla presidente del premio vanda tramezzo il lavoro della giuria è stato particolarmente difficile vista la qualità delle opere presentate per questo oltre agli altri riconoscimenti sono stati assegnati anche due premi della giuria vinti per la narrativa ad adriana zanna di molfetta con emma e per la poesia da lucia lobianco di palermo con dovevo bagnarmi alla fonte del sapere il premio città di pesaro per la narrativa ad anna maria fusco di chieti con emma per la poesia ad afne malvasi di torino con dormi amore mio il premio fidappa pesaro a mirea carone di barletta con tenebre di terrore il premio soroptimist pesaro a ivana saccenti di pozzuolo martesana con il cielo a strisce il premio cif comunale pesaro ad anna cantagallo di roma con arazzo familiare così come il premio speciale la donna si racconta è stato invece assegnato all'esperta di social media influencer marketing ilaria barbotti per la sezione juniore stadi il premio narrativa è andato a sofia orazzi dell'istituto della rovere di urbana con la ragazza ricoperta di sguardi l'eccellenza dei prodotti agricoli e vinicoli del territorio pesarese si arricchisce di un nuovo protagonista si tratta dell'azienda dell'eva che ieri ha tagliato il nastro alla sua nuova avventura imprenditoriale rossini tv era presente all'inaugurazione e vediamo tal proposito il servizio con le interviste realizzate da emanuela rossi 25 ettari di viti olivi frutta e ortaggi immersi nel verde del san bartolo l'eccellenza agricola del territorio si arricchisce di un nuovo protagonista è l'azienda agricola dell'eva inaugurata domenica nella sua sede in strada della romagna con il taglio del nastro ad una nuova missione imprenditoriale di silvano leva che ha radici ormai lontano 2013 nasce con la visita in questo posto che mi è subito piaciuto e quindi il giorno stesso l'ho acquistato e l'abbiamo trasformato da un terreno dormiente in un'azienda agricola e questo è stato il primo step dell'attività stiamo pensando di cambiare nome alla cosa dovrebbe diventare un'azienda agro culturale per la salute il benessere chilometro zero e tutto quello che può essere con l'impegno di portare gente ma soprattutto di portare gente che voglia di passare delle belle giornate in tranquillità abbiamo altri progetti altri step da realizzare abbiamo partecipato a olea per la qualità dell'olio siamo arrivati terzi sull'olio del mediterraneo ne ha fatto vino stiamo facendo trasformate tutto quello che sono i prodotti dell'agricoltura carciofi sott'olio fiori di sabuco melanzane zucchine tutti quelli che sono i prodotti dell'orto miele perché sappiamo che l'appario e altri prodotti che adesso mano a mano andremo a potenziare vini ne facciamo il pino nero siamo uno dei pochi pino nero nel territorio che lo vinifichiamo vinifichiamo in bianco o in nero anche spumante e ci abbiamo anche altre tipologie di vitigni che abbiamo preso all'interno del parco agricoltura abbinata a cultura ed aggregazione un'azione trasversale che silvano leva percorrerà assieme al figlio davide c'è un giovane che è un giovane imprenditore agricolo che ha investito il proprio futuro in questo territorio con un'azienda che ha costituito eccezionale in un posto eccezionale con culture e trasformazione che possono produrre realmente un reddito reale per l'imprenditore agricolo quindi frutta olivi vino un po' di seminativi miele e così via credo che creano queste tutte le condizioni per fare di un'azienda come questa un modello di azienda anche a livello provinciale e io come cia sono orgoglioso di averlo come socio dentro la mia associazione aggiungerei che anche un luogo dell'armonia e io ho il privilegio di rappresentare la più importante istituzione del nostro territorio che fornisce armonia al mondo quindi noi siamo qui non solo per un rapporto affettivo sentimentale che mi lega silvano leva da molti anni per motivi professionali ma anche come conservatorio per avere l'orgoglio di avere qui due brillanti ragazzi che si sono esibiti si stanno esibendo e questo mi riempie particolarmente di orgoglio non solo salvatore giordano al taglio del nastro anche tante personalità del mondo politico dal sindaco vice sindaco di pesero matteo ricci daniele vimini all'assessore regionale all'agricoltura mirco carloni le marche ci sono tanti viticoltori che meritano una legge dedicata al turismo e no gastronomico ma in particolar modo all'enoturismo come in francia che sta funzionando tantissimo da anni diventato un movimento turistico quello di visitare le cantine di fare nascita degustazione di dormire nelle cantine quindi fare esperienza delle vigne noi abbiamo fatto già diversi progetti tra cui dalla vigna alla tavola che abbiamo messo insieme i ristoranti con i produttori di vini con utilizzando i finanziamenti europei sulla promozione dei vini abbiamo in animo di fare la legge sul leno turismo che darà la possibilità e renderà protagonisti coloro che hanno creato cantine e dove possono far degustare fare in modo che questo movimento ben con coordinato e fatto diventare promosso a livello internazionale diventi una grande attrazione per la nostra regione e per tutti i produttori che nelle marche sono davvero molto bravi e stanno facendo un grande lavoro Cane di razza è bello, meticcio è meglio e questo l'ormai noto titolo dello storico concorso che premia bellezza e abilità dei cani rigorosamente non di razza nonché della dedizione dei suoi padroni un concorso che sabato sera in piazza del popolo ha visto celebrare la sua ventunesima edizione devo dire che sono rimasta molto soddisfatta per questa serata perché è stato un successo in qualche modo l'anno passato non abbiamo potuto farla per il covid quest'anno grandi sacrifici anche perché per avere la piazza non è stato facile con tutte le restrizioni che ci sono state per la sicurezza e però ci siamo riusciti diciamo che ci sono stati 42 cani che hanno partecipato e è stato tutto sommato bello perché molti cani belli molti cani grossi ma anche abbiamo dato anche un premio al cane mignon ci sono stati due primi miss e mister cani di taglia grossa abbiamo chiamato come prima battuta un cane disabile che è stato adottato da simona e massimo e gli è stato dato un riconoscimento da parte dell'associazione animal house perché comunque si sono presi cura di un cane che era al canile che noi abbiamo salvato di un cane che non la parte posteriore purtroppo non quindi non cammina ma due persone squisite e quindi sono stati diciamo premiati per l'impegno sono stati premiati 15 cani alla simpatia carne scodinzolo il cane con le orecchie più lunghe insomma ci sono tanti premi alla simpatia e i due miss e mister che cani veramente belli da tanti anni vengo chiamata da francesca a presentare questa manifestazione che per me è un piacere perché io mi diverto in mezzo agli animali io adoro gli animali e poi perché mi piace supportare il messaggio che comunque questo evento vuole dare ogni volta praticamente spingere alle adozioni i canili sono pieni veramente ci sono tantissimi cani che aspettano un proprietario che li vada a prendere e quindi poter veicolare questo messaggio divertendomi mi piace addirittura due volte e passare serate così benvengano peccato che c'è una volta all'anno soltanto perché io sono comunque sempre disponibile mercoledì 8 settembre pesaro accoglierà il noto cantautore simone cristicchi che alle 21 e 30 si esibirà nell'anfiteatro del parco miralfiore in un evento organizzato in sinergia dalle parrocchie della vicaria 3 di pesaro che sentiamo nelle interviste realizzate da marco cadedu Don Michele Rossini uno degli organizzatori delle parrocchie della vicaria 3 del concerto di Simone Cristicchi mercoledì 8 settembre alle 21 e 30 al parco miralfiori ecco noi abbiamo pensato questo evento un po' soprattutto per i giovani ma anche per tutti coloro che lo desiderano proprio perché vogliamo che questo momento sia un momento di riflessione conoscendo Cristicchi come un cantautore attento soprattutto ai valori dell'uomo, ai valori della vita e in questo momento segnato anche un po' dalla paura, segnato un po' anche dal vuoto causato dal coronavirus ecco ci sembrava bello riprendere, ripartire un po' anche con tutte le attività pastorali con un momento di riflessione, un momento di festa, un momento di speranza durante il tempo del lockdown noi abbiamo riflettuto molto soprattutto con i bambini sulle cose che contano e infatti ecco il titolo che abbiamo voluto dare a questo concerto è proprio le cose che contano cioè riflettere su quello che è l'essenziale della vita e cercare ecco di seguire l'essenziale e in questo sicuramente Cristicchi ci dà un bel aiuto Le indicazioni tecniche sono intanto che il biglietto è molto popolare proprio perché abbiamo voluto fare in modo che partecipino tutti specialmente qui giovani quindi costa poco più di 10 euro ecco bisogna prenderlo su Viva Ticket e quindi fare diciamo le procedure che sono richieste per poter registrarsi una delle nostre parrocchie ha lavorato con un gruppo di ragazzi su un testo di Simone Cristicchi facendo un buon lavoro e vedendo come attraverso le parole di questo nostro cantautore c'è la possibilità di riflettere, di andare a fondo, di trovare quelle cose che contano nella nostra vita Insieme a Simone Cristicchi si esabirà in apertura una band di persone disabili giusto Don Lorenzo? Sì questa è l'idea proprio per dare a questo concerto testimonianza già bello in sé ma proprio una nota in più, un valore in più e abbiamo pensato di invitare questa band, la Vaga Band costituita da ragazzi disabili, dovrebbero essere otto elementi che cantano, si esibiscono, ecco che danno questo così bel segno insomma Ed ora lo sport perché dopo il CT Roberto Mancini D'Aiesi che ha portato il trionfo dell'Italia di calcio agli europei di luglio un altro allenatore marchigiano porta sul tetto d'Europa una nazionale Sabato a Belgrado infatti il commissario tecnico Davide Mazzanti e il suo collaboratore Matteo Bertini entrambi di Marotta hanno conquistato la medaglia d'oro della pallavolo femminile battendo in finale la Serbia padrone di casa Ieri il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri e l'assessore Davide Caporaletti sono infatti recati personalmente a prelevare i due allenatori all'aeroporto di Roma per portarli in fretta a Marotta e imbastire una passerella di festa nel lungomare cittadino a bordo di una Fiat 500 dipinta d'azzurro Ancora sport, rocambolesco pareggio 2-2 per la Vispesero che nel debutto di campionato casalingo al Benelli si mangia le mani per il doppio vantaggio di Lapidato col Pontedera Vediamo il servizio di Edoardo Razzi Si conclude con il risultato di 2-2 il debutto casalingo della Vispesero che nel match contro il Pontedera ha ottenuto il primo punto stagionale dopo il 3-0 subito alla prima di campionato contro la Roborsiena Tanto rammarico per i Biancorossi che dopo aver concluso il primo tempo avanti di due reti con i sigilli di Marcandella al 19esimo e di Tonso al 35esimo sono stati rimontati nella ripresa Un pareggio amaro per la Vis che oltre ad aver perso una buona occasione per riscattarsi è uscita dal campo Malconcia con due giocatori Coppola e Tonso finiti in ospedale dopo due colpi subiti alla testa Gli accertamenti ospedalieri hanno dato riscontri confortanti sulla situazione di Coppola Più problematico invece l'infortunio di Tonso trasferito all'ospedale di Ancona per il trauma riportato alla mandibola Tanto dispiacere per questa mancata vittoria da parte di Mr. Banchini come lui stesso ha commentato a fine partita Mi dispiace molto per i ragazzi perché oggi non dico di meritare perché quando fai pareggio meriti di pareggiare però si poteva portare a casa i tre punti e la verità è che è quella che hai detto te abbiamo cominciato a vedere un po' la vis che mi piace, una vis che è propositiva, che gioca il primo tempo ne è stato l'esempio perché io ci metto l'occasione di Tonso che tira da dentro l'aria e ci metto anche la bella girata di testa di Gucci che è uscita di poco però una squadra che attacca propositiva che cerca di dominare il gioco dopodiché all'inizio del secondo tempo sapevamo perché quando una squadra è sotto 2-0 lo sai che quello che ha è una grande reazione emotiva che soprattutto all'inizio della frazione ti proverà a mettere in difficoltà ma eravamo molto equilibrati io qua pubblicamente spero che Mario non abbia nulla di grave perché mi hanno detto addirittura che ha perso i sensi ha un buco in testa e si è aperto e questa cosa i ragazzi l'hanno vista quando vedi il sangue e questa tensione così dopo ti dico la verità sulla stessa inattiva prendi un gol non mi piace parlare e non voglio parlare delle scelte arbitrali però sicuramente quello ha scaturito quell'emotività negativa che ti condiziona subito il 2-2 un'altra situazione simile borderline io adesso poi rivedrò le immagini però dove sbagli sicuramente c'è sempre da fare meglio io sono uno che si mette sempre in discussione e cerca di trovare la soluzione giusta purtroppo il calcio è questo raccogli e devi pensare che oggi hai raccolto un punto e per fare 3 devi fare di più e concludiamo la nostra pagina sportiva con la notizia della presenza a Pesaro delle farfalle azzurre della ginnastica ritmica al taglio del nastro dei prossimi campionati europei di ginnastica che si terranno alla Vitrifrigo Arena le atlete azzure che si sono conquistati il bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2021 saranno infatti le protagoniste della cerimonia d'apertura di 17 settembre alle ore 16 una data che darà il via alla prima delle tre competizioni previste ovvero i campionati europei di aerobica seguiranno poi i due appuntamenti con la ginnastica acrobatica categoria junior e senior e con questa ultima notizia di sport si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News di lunedì 6 settembre prima di salutarci però vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21 e 15 vedrà proiettare il nostro speciale sulla presentazione del libro di Franca Mercantini l'altalena della vita non perdetevelo alle ore 21 e 15 e per chi ancora non l'avesse fatto vi ricordiamo l'app di Rossini TV uno strumento agile facile e veloce per avere sempre a portata di click la possibilità di rivedere i nostri programmi consultare le notizie o semplicemente per inviare segnalazioni alla nostra redazione ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV vi auguro la più cordiale continuazione di serata con i nostri programmi